Vittime innocenti della criminalità organizzata, del terrorismo, del dovere, persone comuni uccise per vendetta, per sopraffazione o per imponderabile fatalità. È un cumulo di leggi nazionali e regionali che organizza il rispetto della memoria e disciplina il sostegno morale e materiale ai parenti. Il giurista Emilio Tucci e il sociologo Giacomo Lamberti hanno ricostruito con ordine il quadro legislativo completo in un manuale che raccoglie la normativa per la tutela giuridica e le misure di aiuto ai familiari delle vittime. Il testo non è rivolto soltanto agli avvocati e ai tecnici del diritto, ma anche ai parenti delle vittime per creare consapevolezza su diritti spesso ignorati. Martedì 14 febbraio, alla Facoltà di giurisprudenza dell'Università Federico II, gli autori hanno presentato il volume con un'iniziativa promossa dalla Fondazione Polis, cui hanno preso parte fra gli altri il sindaco Luigi De Magistris, il presidente di Libera Luigi Ciotti, l'assessore regionale alle autonomie locali Pasquale Sommese, il presidente della Fondazione Paolo Siani. Sì, è importante perché si ricostruisce anche il quadro normativo per la prima volta, una legislazione completa, luce ombre su quello che la legislazione ha fatto in questi anni per le vittime di mafie. C'è stato un intervento importante dello Stato in questi anni, delle associazioni come Libera contro le mafie e di anche tante altre associazioni, ma c'è anche molta strada ancora da fare. Penso ad esempio ai testimoni di giustizia che sono stati un po' abbandonati, però è un tema che vede la nostra massima attenzione e sensibilizzazione.